buongiorno a tutti dalla car di enrico caffarelli oggi è lunedì un buon inizio settimana a tutti voi io sono un po attufato il naso un po chiuso quindi mi scuso se magari la mia pronuncia è un po deficitaria però volevo condividere con voi questo video che vi invito a supportare con un bel like con un bel mi piace e se non ti sei iscritto al canale fallo almeno mi rendi molto felice e se poi vuoi seguirmi anche su instagram mi fai ancora di più contento ragazzi la situazione del napoli perché questo video è dedicato alla squadra partenopea è sotto shock abbiamo visto tutti ieri la formazione di mazzarri che mi dicono abbia pensato alle dimissioni questo non ne sono certo però alcuni amici mi hanno appunto conferito questa questa notizia che poi meluso ha detto che non che non venivano prese in considerazione però sono andati tutti quanti in ritiro perché la situazione della squadra che ha vinto lo scudetto dell'anno passato che ha fatto vedere a tutto a tutta italia un gioco spettacolare una forza senza senza rivali proprio quest'anno sta effettuando un campionato a dir poco disdicevole veramente i miei amici napoletani perché ne ho tanti sono sono depressi dal punto di vista calcistico è perché la depressione è tutt'altra cosa e quindi non bisogna menzionarla in ambito sportivo e de laurentis sta prendendo provvedimenti è arrivato mazzocchi come primo innesto anche se ieri ha combinato un grosso guaio facendosi espellere dopo pochissimi minuti che è subentrato ad inizio secondo tempo con un fallo criminale senza senso scriteriato però de laurentis deve ancora puntellare questa formazione e quindi si prospettano nuovi arrivi e sono andato a leggere subito questa mattina e come al solito mi documento e aurelio de laurentis e la famiglia pozzo stanno definendo nel dettaglio l'operazione lazar samarzic al napoli il papà del centrocampista serbo ha chiesto garanzie sul progetto tecnico ma è tutto ok sia dal punto di vista dei diritti d'immagine sia dello stipendio il calciatore zero minuti contro la lazio quindi tutto ciò fa capire che quando un calciatore non lo schieri neanche un quarto d'ora sta a significare che è in procinto di passare in un'altra squadra aspetta solo il via libera per sostenere le visite mediche quindi sta aspettando il via libera per andare a napoli a farsi controllare dal punto di vista della salute a riferirlo su x che se non erro è il vecchio twitter twitter è il giornalista ed esperto di calcio mercato di relevo matteo moretto quindi ragazzi c'è l'intesa anche su sui diritti d'immagine gli ultimi colloqui tra le parti sono stati molto positivi e l'affare può sbloccarsi definitivamente tra lunedì e martedì quindi è atteso per le visite mediche il fantasista dell'udinese che già nell'estate era stato molto vicino all'inter poi all'ultimo non se ne fece nulla però lo avevano quasi annunciato quindi andiamoci con i piedi di piombo noi che commentiamo registriamo e parliamo di calcio perché magari potrebbe non definirsi all'ultimo secondo lo ha dimostrato quest'estate appunto no però da come dicono è vicinissimo l'accordo e quindi napoli potrà schierare al posto di uno spento zielischi che si vede da oltre un miglio che non è più non ci sta più con la testa sta su un'altra dimensione molto probabilmente andrà via perché è scaduto il contratto e quindi uno come samazic che ha voglia e ha determinazione a tutta la carriera davanti potrebbe essere soltanto che un innesto positivo per la squadra di mazzarri che manca in quasi tutti i reparti e quindi andare nel centro nevralgico del gioco perché lui verrebbe messo dietro dietro le punte al posto di zielischi ma può essere anche sistemato in diverse situazioni in diversi ruoli del centrocampo perché ai piedi buoni a visione di gioco a temperamento quando vuole saltare l'avversario lo fa tranquillamente e quindi potrebbe essere soltanto che un fattore determinante per la squadra di mazzarri che va puntellata anche in difesa perché io non ho mai visto la difesa di del napoli così come quest'anno l'altro anno era era spettacolare è vero che c'era kim però non penso che per un calciatore possa essere così scadente quindi magari prendendo un difensore di livello come come samazic per il centro per il centrocampo in napoli verrebbe diciamo migliorata dal punto di vista del di tutta quanta la tattica del dell'undici titolare quindi non lo so ragazzi se andrà in porto questa questa acquisto questa acquisizione durante la giornata di oggi o di domani però vi ho letto quello che appunto dichiarato l'esperto di calcio mercato lascia un like a questo video per supportarlo iscriviti al canale se ancora non l'hai fatto attiva la campanella delle notifiche e seguimi su instagram ti lascio il link in descrizione almeno ci possiamo mandare qualche messaggio in privato e parlare di calcio e di tutto ciò che ti fa piacere perché io rispondo sempre o quasi sempre a tutti ciao da enrico capparelli